ciao sono il dottor max della farma max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerei bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco acido zoledronico milan milan italia srl ultimo aggiornamento 11 ottobre 2021 cosa acido zoledronico milan confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzione di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere acido zoledronico milan durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa acido zoledronico milan acido zoledronico milan a un farmaco a base del principio attivo acido zoledronico monohidrato appartenente alla categoria degli osteomodulanti e nello specifico bifosfonati e commercializzato in italia dall'azienda milan italia srl acido zoledronico milan può essere prescritto con ricetta rn rl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti confezioni acido zoledronico milan 4 mg bar a 5 ml concentrato per sol infusione 1 flacon ceno informazioni commerciali sulla prescrizione titolare milan spa concessionario milan italia srl ricetta rn rl medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti classe h principio attivo acido zoledronico monohidrato gruppo terapeutico osteomodulanti forma farmaceutica soluzione uso interno indicazioni prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico fratture patologiche schiacciamenti vertebrali radioterapia o interventi chirurgici all'osso ipercalcemia neoplastica in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica t posologia acido zoledronico milan deve essere prescritto e somministrato ai pazienti solo da personale sanitario professionista con esperienza nella somministrazione di bis fosfonati per via endovenosa ai pazienti trattati con acido zoledronico milan deve essere fornito il foglio illustrativo è la carta di promemoria per il paziente posologia prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico in pazienti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso adulti e persone anziane la dose raccomandata di acido zoledronico milan e la prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico in pazienti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso ad 4 mg di acido zoledronico ogni tre o quattro settimane ai pazienti deve essere somministrato anche un supplemento di 500 mg barra di e di calcio per via orale e 400 ui barra di e di vitamina d la decisione di trattare i pazienti con metastasi o se per la prevenzione di eventi scheletrici correlati deve considerare che l'effetto del trattamento si manifesta in 23 mesi trattamento della t adulti e persone anziane la dose raccomandata nell'ipercalcemia calcemia corretta con albumina 0 yen 12,0 mg barra di l o 3,0 mol barra l ad una dose singola di 4 mg di acido zoledronico compromissione renale di prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico in pazienti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato prima di iniziare il trattamento con acido zoledronico milan e i pazienti con mielloma multiplo o con metastasi o se da tumori solidi devono essere determinate la creatinina sierica e la clarence della creatinina clcr la clcr a calcolata dalla creatinina sierica mediante la formula di coccroft gault acido zoledronico milan non ha raccomandato per pazienti che presentano prima dell'inizio della terapia una grave compromissione renale definita per questa popolazione come clcr 265 amumol barra l o 3,0 mg barra di l nei pazienti con metastasi osse che presentano compromissione renale da lieve a moderata definita per questa popolazione come clcr 30 60 ml barra min si raccomanda la seguente dose di acido zoledronico milan vedere anche paragrafo 44 clarence della creatinina basale ml barra min dosaggio di acido zoledronico milan raccomandato 4,0 mg di acido zoledronico 50 60 3,5 mg di acido zoledronico 40 49 3,3 mg di acido zoledronico 30 39 3,0 mg di acido zoledronico le dosi sono state calcolate assumendo una uc target di 0,66 mga euro hr barra l clcr uguale 75 ml barra min con la somministrazione della dose ridotta nei pazienti con compromissione renale si prevede di raggiungere un valore di auci uguale a quello osservato in pazienti con clarence della creatinina di 75 ml barra min dopo l'inizio della terapia la creatinina sierica deve essere determinata prima di ciascuna somministrazione di acido zoledronico milan ed in caso di peggioramento della funzionalità renale il trattamento deve essere sospeso negli studi clinici il peggioramento della funzionalità renale ha stato definito come di seguito riportato per i pazienti con valori basali di creatinina sierica normali 1,4 mg barra di l o 124 amumol barra l un aumento di 0,5 mg barra di l o di 44 amumol barra l per i pazienti con valori basali di creatinina sierica anormali 1,4 mg barra di l o 124 amumol barra l un aumento di 1,0 mg barra di l o di 88 amumol barra l negli studi clinici il trattamento con acido zoledronico ha stato ripristinato solo quando il valore della creatinina ha ritornato ad essere non superiore del 10 per cento rispetto al valore basale vedere paragrafo 44 il trattamento con acido zoledronico milan deve essere ripristinato con lo stessa dose utilizzata prima dell'interruzione del trattamento popolazione pediatrica la sicurezza e l'efficacia dell'acido zoledronico nei bambini di età compresa tra 1 anno e 17 anni non sono state stabilite i dati al momento disponibili sono riportati nel paragrafo 51 ma non può essere fatta alcuna raccomandazione riguardante la posologia modo di somministrazione uso endovenoso acido zoledronico milan 4 mg barra 5 ml concentrato per soluzione per infusione successivamente diluito in 100 ml vedere paragrafo 66 deve essere somministrato come una singola infusione endovenosa in non meno di 15 minuti nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata ha raccomandata una riduzione della dose di acido zoledronico vedere paragrafo a euro sposolo già euro s sotra e paragrafo 44 istruzioni per la preparazione di acido zoledronico milan a dosaggi ridotti prelevare a seconda della necessità un appropriato volume di concentrato come segue 4 4 ml per la dose 3,5 mg 4,1 ml per la dose 3,3 mg 3,8 ml per la dose 3,0 mg per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione vedere paragrafo 66 la quantità prelevata di concentrato deve essere diluita in 100 ml di soluzione sterile salina sodio cloruro 9 mg barra ml 0,9 per cento per iniezione oppure soluzione glucosata al 5 per cento pi barra di la dose deve essere somministrata in una singola infusione endovenosa della durata non inferiore a 15 minuti il concentrato di acido zoledronico milan non deve essere miscelato con soluzioni per infusione contenenti calcio o altri cazioni bivalenti come ad esempio la soluzione di ringer lattato e deve essere somministrato come una singola soluzione endovenosa in una linea di infusione separata i pazienti devono essere mantenuti in buono stato di idratazione prima e dopo la somministrazione di acido zoledronico milan controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ad altri bis fosfonati ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 allattamento al seno vedere paragrafo 46 avvertenze speciali e precauzione di impiego generale prima della somministrazione di acido zoledronico milan i pazienti devono essere valutati attentamente per assicurare loro un adeguato stato di idratazione deve essere evitata una eccessiva idratazione in pazienti vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione negli studi clinici l'acido zoledronico ha stato somministrato in concomitanza farmaci antitumorali comunemente usati diuretici antibiotici analgesici senza che fossero osservate interazioni clinicamente significative in vitro l'acido zoledronico vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it assumere acido zoledronico milan durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere acido zoledronico milan durante la gravidanza e l'allattamento gravidanza non vi sono dati adeguati provenienti dall'uso di acido zoledronico in donne in gravidanza gli studi sulla riproduzione effettuati con acido zoledronico su animali hanno evidenziato una tossicità riproduttiva vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari reazioni avverse come vertigini e sonnolenza possono avere un'influenza sull'abilità di guidare veicoli o sull'uso di macchinari pertanto deve essere prestata cautela nella guida di veicoli e nell'utilizzo di macchinari durante il trattamento con acido zoledronico milan effetti indesiderati riassunto del profilo di sicurezza entro tre giorni dalla somministrazione di acido zoledronico ha stata comunemente riportata una reazione di fase acuta con sintomi comprendenti dolore alle ossa febbre affaticamento vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codica.it sovradosaggio l'esperienza clinica con il sovradosaggio acuto di acido zoledronico a limitata è stata segnalata la somministrazione per errore di dosi fino a 48 mg di acido zoledronico i pazienti che sono stati trattati con dosi superiori a quelle raccomandate vedere paragrafo 42 devono essere monitorati con particolare attenzione in quanto sono stati osservati compromissione renale insufficienza renale inclusa e anomalie degli elettroliti sierici calcio fosforo e magnesio inclusi in caso di ipocalcemia si devono somministrare infusioni di gluconato di calcio come indicato clinicamente proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica medicinali per il trattamento delle patologie dell'osso bisfosfonati codice atc m05 ba 08 l'acido zoledronico appartiene alla classe dei bisfosfonati e agisce principalmente a livello osseo è un inibitore dell'assorbimento proprietà farmacocinetiche gli studi di farmacocinetica dopo infusione endovenosa singola e ripetuta di 5 e 15 minuti di 2 4 8 e 16 mg di acido zoledronico in 64 pazienti con metastasi dati preclinici di sicurezza tossicità acuta la dose massima non letale per somministrazione endovenosa singola risultata pari a 10 mg bar a chilogrammi di peso corporeo nel topo e 0,6 mg bar a chilogrammi nel ratto tossicità sub cronica e elenco degli eccipienti sodio citrato sodio idrossido acido cloridrico acqua per preparazioni iniettabili farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di acido zoledronico milan a base di acido zoledronico monoidrato sono acido zoledronico fresenius cavi acido zoledronico medac acido zoledronico tillomed fonte foglietto illustrativo ai fa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione pià aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato